Tutte le regioni del sud sono state messe di fronte a un problema che si sarebbe potuto facilmente evitare gestendo questi provvedimenti di chiusura, accompagnando anche l'indicazione di non trasferirsi in massa da nord al sud che ci ha creato sicuramente qualche problema. Emergenza coronavirus. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore del Dipartimento Salute regionale Vito Montanaro fanno il punto della situazione. In Puglia fino a questo momento sono stati effettuati circa 100 tamponi, tutti risultati negativi. Il governatore inoltre assicura che la macchina organizzativa è pronta per affrontare un'eventuale emergenza anche in Puglia. Quindi la Puglia, nell'ipotesi che vi sia un soggetto contaminato, il primo farà entrare in azione nella rete delle unità operative delle malattie infettive, che sono 8 in Puglia, delle quali l'unità delle malattie infettive del Policlinico è il Lab regionale. La rete consta di 195 posti letto, dei quali 25 a pressione negativa ed isolamento. Questa rete entra in azione assieme alla rete dei laboratori di microbiologia e virologia, che hanno 8 nodi, tra i quali il laboratorio del Policlinico di Bari sarà l'Hub dei laboratori per le eventuali analisi. Noi abbiamo bisogno grossomodo di 300.000 occhialini e maschere FFP2 ed FFP3 per mese. Quindi grossomodo questi sono i quantitativi dei DPI maggiormente utilizzati in questo periodo.